Senti, senti che bimbi, la voglio sentire metà, ok no, bravissimo, ma vediamo, i bimbi ci sono in giro? Quanti ce ne sono di bimbi? Eccoli là, vediamo, l'arpa celtica, ci si può giocare facendo anche queste cose. Ma sono sempre i rocker, ne sono tutte, vanno dalla sirenetta all'initarnica, aspetta, 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 vediamo allora se conoscono questa, secondo me no, vediamo, si va in sfida, ma è quella che penso io? Quella che hai composto tu? Ah ok, questa la composta lui, forse la mette. Grazie, che meraviglioso! Qualcuno l'avete sentita? Ma hai fatto il copyright di questa? Ah ok, una serie? no, allora anche per gli amanti del pop, dai, gli amanti del pop, così abbiamo coperto tutto l'arco costituzionale. No, moderno, moderno, poi intanto lo so che lo fai con l'arco qui. Senti che c'è il cuore? Succede solo a guidone. Basta, basta, basta. Un applauso ad Adriano Sanginetto. Allora, l'arpa creativa, l'arpa creativa, lui c'è anche sui cd, che provate al pancetto dei Gendis, quello lì di fianco all'audio, e anche, no, su dire, pancetto dei Gendis. Quindi, arpa creativa, l'arpa creativa, come nelle danze, è giusto che le nuove generazioni abbiano le radici forti, le radici profonde, ma poi ci si può anche divertire facendo anche cose diverse da quello che può essere il canone istituzionale. Proprio perché lo strumento, le scarpe, i piedi, quello che facciamo, è soprattutto frutto del nostro divertimento. Quindi, Adriano, ti lascio presentare il tuo ultimo pezzo. Ho un medley preso appunto da Arpa Creativa, ci sono diversi brani, li ho presi, li condesso tutti insieme, così almeno vi faccio via sotto. Grazie. Adriano Sanginetto. Grazie.